La Washington Tremlett quest'anno presenta una nuova fragranza, Gentleman's Betivet. È una fragranza fresca, agrumata nell'inizio e la base invece sono note di legno e il Betivet, l'olio essenziale di Betivet di Haiti. Abbiamo pensato a questa fragranza discreta, pulita, così come nella classicità di Washington Tremlett, che era un sarto del 1870 specializzato nella camice, nella cravate, un inventore della cravatta a sette pieghe, che ancora oggi riconosce come marche di Washington Tremlett. Altri marchi che abbiamo nella nostra società sono X-Pack, che è specializzato nel grooming mastile, Geo Tramper, barbiere a Londra dal 1875 e la colonia, la più antica acqua di Polonia, Joan Maria Farina del 1700. Sono tutti marchi storici che teniamo a portare avanti proprio per la loro caratteristica di storia.